anche per non solo quel motivo e c'è anche il pubblico che è d'accordo ma io non vi chiedo di cantarla no, facciamo perdere ci vuoi farci a cattiveglia? no, 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 no vi chiedo di fare entrare la nostra modella col premio e c'è il momento solenne della consegna del premio Wind Music Award a Zucchero! grazie grazie, grazie a Zucchero bocca al lupo, grazie, buona fortuna ciao, grazie e ringraziamo anche Giorgio Pagotti grazie mille, grazie grazie, 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 buonasera